I finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno eseguito un'ordinanza con cui il GIP del locale tribunale ha disposto misure cautelari personali e reali nei confronti di Paolo Pistone, 62 anni, sottoposto a indagine per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Le investigazioni hanno riguardato la società PAS SRL, avente ad oggetto la produzione e commercializzazione di prodotti da forno e dolci con il marchio i dolci di nonna Vincenza, dichiarata fallita dal tribunale Tneo nell'aprile del 2022. Sono stati acquisiti elementi circa il fatto che Paolo Pistone, in qualità di amministratore unico, avrebbe cagionato il dissesto della società per effetto di operazioni dolose e successivamente, in prossimità del fallimento, avrebbe distratto liquidità e asset aziendali a favore di una nuova realtà aziendale, la Dulcedo SRL, formalmente distinta dalla fallita ma in realtà riconducibile al contesto familiare del predetto imprenditore. Inoltre, l'indagato avrebbe fatto ricorso a diversi escamotage contabili in bilancio allo scopo di occultare il reale stato di salute dell'impresa. Tale condotta, unita all'assenza di qualsivoglia iniziativa concreta per porre rimedio alla crisi aziendale in atto, avrebbe aggravato l'esposizione debitoria della società nei confronti dei creditori, quantificate in circa 6,2 milioni di euro. Di fronte alla situazione di dissesto, Paolo Pistone avrebbe peraltro distratto dalle casse aziendali liquidità per 419 mila euro e al contempo si sarebbe adoperato per proseguire le attività di produzione e commercializzazione di prodotti di pasticceria con il marchio I Dolci di Nonna Vincenza attraverso l'affitto a valori irrisori rispetto al volume d'affari e alla redditività di quattro rami d'azienda a favore della Dulcedo SRL, società di recente costituzione e amministrata dalla moglie. All'esito delle investigazioni svolte, il GIP di Catania, su richiesta della Procura, ha dunque disposto gli arresti domiciliari nei confronti di Paolo Pistone, il sequestro preventivo del compendio aziendale della Dulcedo SRL con la contestuale nomina di un amministratore giudiziario nonché delle somme giacenti sui conti correnti e depositi riconducibili all'indagato sino a concorrenza dell'importo di 419 mila euro quale profitto del reato derivante dalla distrazione delle liquidità aziendali.